Dopo circa due mesi di lavoro intenso, oggi vi dico cosa ne penso della mia nuova troncatrice, una Metabo KGS305M. Sarà forse banale, ma in tema di sicurezza sicuramente nessuna parola è mai di troppo, quindi prima di procedere stacchiamo la spina in modo tale da poter avvicinare le mani alla lama in assoluta tranquillità. Innanzitutto vediamo perché scegliere una troncatrice. Non è certo in cima, nella lista degli attrezzi indispensabili in un laboratorio da ubista. Si può fare benissimo senza, si può superire benissimo costruendosi una slitta per tagli al banco SEGA, come in molti hanno fatto, come io stesso ho fatto. Ma comunque questa soluzione, questo piano B ha sicuramente degli svantaggi. Una volta che la si possiede si capisce veramente come questa macchina ti facilita enormemente la vita e soprattutto velocizza tutta una serie di lavorazioni che eseguite al banco SEGA richiederebbero molto più tempo, molta meno precisione, molto più dispendio di energia. Quindi precisione e velocità sono due caratteristiche fondamentali di questa macchina soprattutto se si è in mente di costruirvi attorno un piano di lavoro dedicato, stile, banco, troncatrice, come in mente di fare io e come molti altri hanno già fatto. Lì sì che si fa un vero salto di qualità in avanti, soprattutto per la possibilità che si ha di eseguire tagli ripetuti in serie con una grandissima precisione. A questo punto ho fatto 30, vi consiglio di fare 31, ovvero di acquistarla come ho fatto io con una lama almeno di 300 mm di diametro, questa è una 305, che si traduce quindi in un'altezza di taglio utile di circa 105 mm in abbinamento al sistema radiale, come in questo caso, che consente di effettuare dei tagli in trazione con una larghezza utile di taglio, in questo caso di 305 mm. L'ingobro della macchina con le due estensioni chiuse è pari a 51 cm di larghezza per circa un metro di profondità e circa 65 cm di altezza. Tenete conto che questa parte potrebbe lavorare anche a sbalzo, come ho visto fare, ma essendoci anche in questo caso un piedino di sostegno, io vi consiglio di sagomare eventualmente il piano di lavoro più largo in questa zona in modo tale da consentire anche in questo punto il dovuto sostegno in tutte le configurazioni possibili, quindi anche nel caso di angolazioni più o meno 45 gradi nel piano orizzontale. Queste estensioni, se opportunamente aperte, consentono di aumentare la superficie utile di appoggio sia a destra che a sinistra della macchina per una larghezza complessiva di circa 78 cm. Solo sulla parte destra c'è poi anche questa possibilità di sollevare questa aletta che consente di avere un riferimento nel caso di tagli ripetuti, ma lo trovo comunque abbastanza inutile visto il limitato range di funzionamento, pari a circa una ventina di centimetri, che è la differenza tra l'escursione massima e l'escursione minima di questa estensione. Oltre alle estensioni laterali che abbiamo appena visto, esiste anche una battuta verticale sul fondo per consentire un adeguato sostegno e supporto al pezzo in lavorazione. Battuta verticale che solo sul lato sinistro è estensibile. Sia le estensioni orizzontali, laterali, che quelle verticali di fondo hanno delle apposite manopole che ne consentono il bloccaggio. Solo sulla parte destra della battuta verticale esiste una scala preimpressa che va da 2 a 22 cm, con delle tacche ogni 5 mm. Inoltre viene fornito questo morsetto che è possibile bloccare sia in posizione verticale dietro alla battuta e sia in posizione orizzontale utilizzando queste sedi frontali che consentono appunto di bloccare il pezzo nella configurazione più adatta all'osteogenetria, sia appunto verticalmente che orizzontalmente. Queste due sedi per inserire il morsetto esistono sia nella parte destra che nella parte sinistra del corpo macchina, anche se questa configurazione la trovo abbastanza inutile perché va ad interferire con il corpo motore in fase di movimentazione della macchina. La macchina può essere facilmente trasportata, ci sono delle leve per bloccare tutti i movimenti, ad esempio questa leva consente di bloccare l'alzata e la discesa della lama, da questo lato c'è una manopolina che blocca invece l'escursione del sistema a trazione, quindi si porta tutta indietro la lama e si blocca e qua indietro invece c'è una manopola appunto che può bloccare il sistema di movimentazione della lama rispetto al piano verticale. Una volta tutto bloccato si prende il filo che allunga circa due metri e mezzo e si arrotola nell'apposita sede. La macchina quindi è trasportabile, ma visto il suo peso che è di circa una ventina di chili e soprattutto il suo ingombro, io ne consiglio un utilizzo prevalentemente stazionario, anche se nulla ci vieta di portarlo in giro, di lavorare ad esempio in cantiere per chi ne ha la necessità. Seppur ingombrante in termini di spazio e pesante, il peso in questo caso può deporre a suo favore in termini di robustezza costruttiva della macchina, infatti per la quasi totalità della componentistica si parla di acciaio o di alluminio. Le parti in plastica come vedete sono limitate allo stretto necessario, stiamo parlando prevalentemente di pomelli di regolazione e carter di protezione. La lama in dotazione è una precision cut 305 mm e 56 denti che consente di eseguire tagli estremamente puliti sia sul massello che sul multistrato e il laminato. Le opzioni di funzionamento sono molteplici, c'è quella a troncare semplice, con un'altezza di taglio di 105 mm, c'è l'opzione radiale, che abbina quindi oltre all'altezza di taglio 105 mm e una profondità di taglio di 305 mm e naturalmente c'è la possibilità di inclinare la lama sia nel piano orizzontale che nel piano verticale, andando a sbloccare il relativo pomello di serraggio. A questo punto è possibile inclinare la lama solo a sinistra di 45 gradi. Azionando un pulsante posto sul retro della macchina è possibile aumentare l'escursione di ulteriori 2 gradi, quindi arrivare a meno 2 gradi lato destro e 47 gradi sul lato sinistro. Chiaramente tutte queste operazioni vanno eseguite a macchina spenta. L'inclinazione rispetto al piano orizzontale può essere ottenuta svitando relativa manopola e facendo pressione sulla leva di sblocco. In questo modo si va da meno 47 gradi, 45 più 2, a più 47 gradi. Ci sono comunque delle misure prestabilite che sono 22 gradi e mezzo, chiaramente 45 e 0 gradi. In corrispondenza di tali misure la macchina è preimpostata per bloccarsi, quindi facendo ruotare la macchina, come vedete, quando arriviamo in prossimità degli 0 gradi c'è un clac. La macchina si blocca a 0 gradi. Un'altra opzione molto utile che vado a mostrarvi è questo, ovvero il blocco della profondità di taglio. Come vedete c'è questa piastrina con questo foro all'interno. Questa piastrina può essere traslata in due posizioni sostanzialmente, più arretrata e più avanzata. In questa posizione più avanzata, come vedete, la vite va imbattuta sulla piastrina. Avvitando si aumenta, questo è il controdado di serraggio, questa altezza. E come vedete, su questa scala graduata viene riportata qual è l'altezza di blocco. Una volta trovata l'altezza prestabilita, vado a bloccare il tutto con l'apposito controdado di serraggio. Abbinando ora questa funzionalità con l'opzione a trazione, posso andare ad eseguire agevolmente delle scanalature. Ora, per memorizzare tale funzionalità, mantenendo in memoria la profondità della scanalatura, basta sbloccare la piastrina e mandarla tutta indietro. Così facendo, la vite cadrà in corrispondenza del foro presente sulla piastrina, consentendo di effettuare dei tagli passanti. Un po' ovunque, quindi, sia sul sistema di regolazione dell'inclinazione piano orizzontale, che sulla battuta verticale, che sull'inclinazione rispetto al piano verticale ed anche rispetto alla regolazione a profondità di taglio, esistono delle scale graduate che consentono di effettuare tutte le regolazioni del caso. Una funzionalità molto utile, anche se limitata alle rotazioni rispetto al piano orizzontale, è il blocco su angolazioni prestabilite, che come ho detto in precedenza sono 0, 22 gradi e 45 gradi. La potenza del motore è ben proporzionata, stiamo parlando di 1600 watt. La macchina in questo modo non perde mai il numero di giri, anche se sollecitata con legni duri. Ciò che sorprende è l'erogazione del motore, che è sempre molto fluida in tutte le lavorazioni, ed è dotata del sistema start and stop. No, soft start, scusate. Sistema soft start. Chiaramente. Il sistema di raccolta delle polveri viene realizzato dal classico sacchetto con filtro. Chiaramente è inefficace, ma questa non è una pecca specifica di questa macchina, ma potrei dire in generale di questa categoria. Infatti le troncatrici sono tra le macchine che in laboratorio producono più polvere in assoluto. Quindi il rimedio può essere quello di sostituire l'aspirazione tramite sacchetto con un aspiratore. Tuttavia in futuro cercherò di realizzare un sistema per convogliare le polveri e cercare di raccogliere il più possibile all'origine per disperderle il meno possibile in giro per il laboratorio. Ed ora mettiamola alla prova. L'accensione è sicura. Una leva integrata nella presa principale consente di sbloccare il carter di protezione della lama. un pulsante a pressione avvia il motore. Se rilasciato automaticamente toglie tensione e la macchina si ferma. Esiste poi una luce LED integrata per aumentare la visibilità sul piano di lavoro oltre ad un puntatore laser regolabile anche se non lo reputo utile per lavori di precisione ma solo per tagli grossolani. Come primo taglio testiamola su qualcosa di semplicissimo ovvero una perlina 2 cm di rispessore in abete. Chiaramente nessun tipo di problema e taglio pulito garantito anche dai 56 denti della lama. Ora proviamo a tagliare una bella tavola di rovere di dimensioni 14x5 maschera e avvie quei lavori. taglio pulito non ha fatto fatica insomma prova superata questo è un travetto di abete di dimensioni 10x12 dovremmo farcela mettendo il 12 nella direzione della radiale e il 10 nella direzione della profondità anche in questo caso direi test superato superficie di taglio estremamente pulita e concludiamo la prova con un esercizio sui 45 gradi. Che dire pienamente soddisfatto in descrizione trovate il link per l'acquisto o se vi interessano ulteriori specifiche tecniche se avete ulteriori domande lasciatemi qui sotto nei commenti io vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto vi è stato utile vi invito inoltre ad iscrivervi al canale a spuntare la campanellina qualora non l'aveste già fatto noi ci vediamo settimana prossima io vi lascio con una bellissima frase scovata nel web che dice il futuro appartiene il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni io aggiungo che questa è una frase che calza a pennello per un bambino i bambini sono così credono fermamente nei loro sogni quindi credo che è fondamentale per ognuno di noi cercare di conservare gelosamente quel bambino che era in noi e che se vogliamo continuerà ad esserlo e la passione del fai da te rimprende un po' quell'istinto di rimanere un po' bambini ovvero di cercare di costruire con le proprie mani il proprio futuro